Callano i reati in provincia di Arezzo anche se in modo meno marcato rispetto alla media nazionale. È il sole 24 ore a tracciare il consueto quadro sulla sicurezza in base ai dati del Ministero dell'Interno che hanno preso in esame i delitti denunciati nel 2015. Nella provincia di Arezzo sono stati denunciati 3.383 delitti a ogni 100.000 abitanti con un calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente. Un buonissimo dato se consideriamo che in regione solo Siena ha fatto meglio mentre a Firenze si registra l'indice di insicurezza più alto. Nonostante questo però Arezzo nella classifica nazionale scende dal 76esimo al settantesimo posto diventando quindi in un anno meno sicura. Nel 2015 nella provincia retina sono stati denunciati 11.675 delitti, come detto 3.383 ogni 100.000 abitanti, circa 200 in più di Siena dove il calo rispetto all'anno precedente si è attestato al 4,6%.